A volte anche più di nicchia, troppo spesso mi è tarso che se ne parlasse come schede a un sistema o stimolo filosofico, al pensiero, alla riflessione, ad una meditazione di tipo d'arana, non di atme, cioè una meditazione più collegata al pensiero, all'apertura di conoscenze e aspettando che da qualche parte compaia e si accetta la sapienza. Senza nulla togliere il lavoro degli altri, che è assolutamente fabulissimo, il mio lavoro sul lavoro della vita è stato dall'origine assolutamente eretico e oggi me ne posso leggere ancora più conto. Allora tant'è che voglio raccontarvi proprio questo, in due minuti, del perché ho studiato l'arco della vita, per esempio. Qualcuno di voi lo sa, qualcuno di voi lo sa, ma se lo vede, quando ero molto giovane, come molti di voi in realtà, questo so che non potete capire, soffrivo un pochino di disadattamento naturale, cioè mi pareva che il mondo in cui ero nata, la società in cui stavo vivendo e in cui viverevano, non mi appartenesse, o meglio, io non desideravo appartenere completamente a questo tipo di dimensione, società. Perché non mi avevo detto? Perché mi accordo che la stavo giudicando, e non bene. La trovavo falsa, per esempio, un pochino, la trovavo vuota di contenuti, piena di atteggiamenti e non di gesti, dove tutte le cose solo apparentemente venivano bene raccontate e poi nella sostanza, soprattutto dei rapporti, ma anche delle gire, ecco, io non vedevo la sostanza, non la trovavo. E cercavo naturalmente di sopravvivere a me stessa. Ho avuto la fortuna o la sfortuna, come ho avuto una vecchia, di avere una dada, diciamo così, una signora che si è occupata della mia professione infanzia. Avevo queste tre, scusate, femminili, che infatti probabilmente mi hanno segnato. Una è stata la mia mamma, che vedevo poco, la mia mamma bellissima, che era appassionata di molte cose, lavorava, il resto del carino, a Bologna, ed aveva una mente davvero presente. Non la sapetevo tanto, proprio perché aveva preso da tante cose. Lei arrivava con un raggio di sole, un sorriso, la direte, poi va bene. Poi c'era la mia nonna, che era tutta un'altra figura, la donna materna, una donna della terra, nel senso della parola, che era di origine conterna. In carattere invece battagliero era diventata operaia, che non diciamo perché è poca roba, ma invece per lei era stata furiosa e battaglia per il riconoscimento che anche una donna poteva fare operaio, quindi non era la piazza, e una terza figura femminile, che era un'indiana, una donna che aveva una cultura diversa della nostra, da quella della nonna, non ho di troppo, e queste tre donne, che erano la femminilità nel senso intelligente, che era mia madre, una donna di cultura, ma anche di capacità, che viveva con la mente, e cercava successo nella carriera, e lo aveva, una figura come la nonna, che era la saggezza del fare, perché era una persona che poteva lavorare senza stancarsi, amare le persone oltre il necessario, che poteva alzarmi alla mattina tettinandomi e portandomi in bagno per lavarmi, portarmi la colazione a letto, tante cose inutili che però ti fanno sentire amante, importante, per nessuno, ma per la tua famiglia, tanto importante. E questa signora indiana, che non mi faceva fare colazione, ma mi raccontava delle strane storie, mi raccontava delle favole, mi raccontava le favole del Veda, le storie dei santi indiani, la storia dei chakra, come ci sono i mondi, quanti mondi si possono vivere a volte in un mondo solo. E queste tre donne insieme non sono state da parci, diremmo in serena quando crescendo incontravo un mondo che non mi soddisfava e a cui non mi sentivo di appartenere. Questo non appartenere e sentire di vivere invece pienamente a tanti altri livelli, ha fatto sì che purtroppo per la mia famiglia io sono stata una veda, quindi una persona che aveva dei fenomeni strani per cui era da portare da un medico, piuttosto che da un esorcista, piuttosto che da un studioso del profondo, come è stato a Sargioli, e come, tramite l'amica di mia mamma, fu un palamidessi. Che nel bene e nel male, visto che io ho gratitudine per tutti i miei maestri, io non giudico nessuno, magari è stato bravo, magari non era bravo, non lo so, ma per me, una cosa che gli devo è che fosse annoiata, annoiato delle mie mille domande, ad un certo punto, perché andavo lì con una signora che mi accompagnava e mi portava a casa, che facevo con lui terapie, facevo con lui studi, facevo con lui il mio roscopo, cioè lui faceva il mio roscopo a me, e faceva Natale, e io facevo tante domande, perché non mi bastavano mai le risposte, e ad un certo punto non saprò mai se perché l'avevo tediato, se perché non mi poteva più, o perché voleva che fosse la cosa giusta. A un certo punto mi disse, guarda, il mondo come tu lo vedi intorno, tu non lo riesci a capire, perché il tuo inconscio, il tuo mente profonda, è influenzato da città differenti. Questa città, la città bianca, è stata costruita e si sviluppa attraverso gli schemi simboli della Kabbalah. Per questo tu non lo capisci, perché tu non conosci la Kabbalah. E visto che la Kabbalah ce l'hanno di ebrei, mi riuscì, tra l'altro, in modo fortunoso, a fare qualcosa dal bambino. E nel modo fortunoso, perché non mi piace a me, non leale, disse che io mi chiamavo Fornani. Lo sapete che i rabbini non insegnano né alle donne né ai non-ebrei quella che è la loro conoscenza profonda. Io le avevo tutte. Ero una donna, ero giovane, ero sicuramente più stupida di quanto non servisse per essere accolta, e non ero ebrea, ma avevo un bonus, ce l'avevo, pagavo le lezioni. Perché lì la mamma, devo dire, che c'era. Ora, sul come ti chiami Fornani è un cognome giudeo, io ho detto perché ho fatto perché mi hanno detto parmi adesso, ho detto sì, è vero, Fornani hanno anche un cognome giudeo. La mia famiglia non era, avevano invece ebreo. Io però gli ho detto sì, ho detto una mezza verità, o meglio, ho detto una verità formale, ma non una verità profonda. Comunque sono riuscita a studiare con quell'uomo. E dopo quello sono riuscita ad entrare in ambienti che mi hanno permesso di studiare da fonte ebraica, poi da fonte araba, perché la fonte ebraica, secondo il mio modo di sentire, aveva molti limiti. Uno, fondamentale, è una fonte dottrinale. La cavala non viene insegnata come una conoscenza, ma come una liberazione al popolo eletto. E su questo punto, che secondo me è tutto del cuore, è tutto molto importante, quello di cui il preado si parlava anche prima, se vedete è una cosa che dovevo pur realizzare forse in questa vita, io non voglio essere il popolo eletto. perché non mi piace. Io ho bisogno, per me, per il mio sentire, di trovare delle risposte che possano essere d'aiuto e di risposta alla sofferenza, il tormento interiore è una sofferenza, che possono essere, non obbligatoriamente, ma nella possibilità, possono essere accessibili per qualunque sincero ricercatore della verità, a prescindere di quale razza, di quale religione, o di quale sesso esso sia. E da questo, ovviamente, io non potevo rimanere all'interno del meccanismo ebraico, perché non voglio essere il popolo eletto, soprattutto quando ci sono altri che non sono eletti. E questo, per esempio, nel mondo arabo non c'è. Avevo io quel piccolissimo spaccato che ho potuto vedere, era vero piccolo, comunque nei miei confronti non è stato fatto a nessuna forma di... in questo senso, non c'erano lì. Anzi, ho trovato generosità di insegnamento in un articolo di sozione. E poi, visto che la più grossa scuola che io sappia, occidentale, di Cavala, è quella di Lione, perché è quella dei Gesuiti, anche io ho visto che, naturalmente non posso entrare, perché sono una donna, perché non sono cattolica, e non posso diventare per finta, però, di seconda mano delle lezioni, di chi lì insegna e lavora, questo si ottiene, perché delle volte è la spiacevole impressione che anche la conoscenza basta pagarla. È una bruttissima impressione. Ma va bene. Va bene perché senti di investire molto, di essere disposto a pagare in qualunque prezzo, e quindi improvvisamente ricevi tanto. E quando, nei primi anni, non ci capivo niente di queste cose, proprio non capivo, faccio le facce che fate voi all'inizio. Devi imparare a memoria, e non capisci, non capisci il loro modo di ragionare, non capisci, e poi piano piano, invece, dormendo, più che ragionando, dormendoci sopra, piano piano, questo si collega con quello, e piano piano tutto prende un senso. Non solo. Il senso, per questo ritengo che il simbolo compia tra su di noi, dentro di noi, un'azione vera e propria, a prescindere da quello che fa la nostra mente nel frattempo. Perché scava, perché porta alla luce. secondo me il simbolo ti risveglia qualcosa, che probabilmente c'era, c'era, anzi, che sicuramente c'era, e ti risveglia proprio, perché dentro te c'è. E piano piano, ti accorgi di conoscere cose, che non hai studiato, ma che schierano tra le manche, delle cose che hai studiato. Ti accorgi che ti serve l'unità, di mettere dentro dati, senza pretendere una conclusione veloce, perché a forza di mettere dentro dati, tra la trama e l'ordito, nascono piante, flori, alde, perché secondo me, il simbolo è fecondo, cioè anzi, ti feconda, se tu sai accogliere, senza rodanza. E allora, io ringrazio le persone, per quanto fa una fatica bestia, e non voglio fare in particolare, per poter studiare. ovviamente, sacrificando su questa mia sete e fame, di conoscere, tutto il resto, senza, io sento delle volte le persone che dicono, io farei quel seminario, ma guarda, ho fissato le ferie, e dopo il mio fidanzato si delude, se non va in te con lui. E io sorrido, perché ho molta tenerezza, sincera adesso per le persone, perché dico, fidanzato, ben fidanzati, poveretti. E allora sono molto grata, verso le persone, che io non ho mai telefonato a casa, per sentire se gli andava bene, se c'era le tè. io sono nella vita, non voglio le fare della vita, sono nella ricerca di qualcosa, non c'è nient'altro che sto cercando. E in questa emozione, che non so se ve la riesco a passare, si trovano invece, o meglio, si trovano tante cose, ma soprattutto si fiorisce dentro. E ad un certo punto, mi sono acquata proprio in una quasi sessione d'esame, con degli ebrei di quelli veri, cioè di quelli con il cappello in te, veri in questo senso, molto convinti, diciamo, mi sono trovata a dire, dissento. Era un pezzo dello Zohar, un brano che doveva vari livelli dell'anima, perché i livelli dell'anima sono 5, e qualcosa detto, no, tu hai letto male il tuo testo. E io non te lo dico perché ho capito, ma te lo dico perché dentro di me ci sono comunque delle conoscenze che, di fianco a quelle che mi hai dato tu, mi fanno capire meglio le tue. Perché se l'arcovalente ha fatto di 7 colori e fatto tra io e l'uomo, la tua figlia stessa mi dice che in 7 numero di uomo, io ho 7 livelli dell'anima, e in quel brano dello Zohar che viene interpretato sempre come i 5 livelli dell'anima, mi dispiace, i verbi sono 7, e quindi 7 sono i gesti divini. E questo te lo insegnano loro, ma non sanno leggere i testi. O me, ma non lo dico io, naturalmente sono benante, che l'ha detto prima di me. casualmente, la settimana o due settimane dopo, un amico, un amico editore, mi fa vedere un libro, dicendo, guarda, questo lo consiglio solo tu, perché non c'è per niente. Vi arriva questo libro, scomparso, di un francese, che era Israel con Netanyahu, e era un tutto provocatorio, dice Israele, cioè, ebrei, riconoscete il vostro Dio, perché ne avete fatto una religione, invece è una conoscenza. E la Dio ha detto, sì, sì, altro, mi servirà altro pasto, perché l'acqua bagna, non so come dire, possiamo farci della filosofia, ma l'acqua bagna. L'uomo conosce in sette. Possiamo fare delle religioni che chiudono la conoscenza in comparti, per separarci delle volte, per governarci più delle volte, ma l'ignoranza ci ammala, è la prima fonte del male, secondo me, o meglio, del soffrire, della sofferenza, della divisione. E la conoscenza, nel suo piccolo, ci libera, ci porta a vicino agli altri, ce li fa accogliere, anzi, e nell'accoglienza dell'alto, della sua sapienza diversa dalla nostra. Se non ci lasciamo attraversare, senza troppe resistenze, abbiamo solo da imparare. E questa, alla fine, se potessi concludere, potrei dire, è la mia esperienza personale, della ricerca, della, una volta che fanno la ricerca della verità, adesso mi temo prima, perché la verità, è una, è un sentimento, così grande, che secondo me, è il sentimento di qualcosa, che sai, detto di te, che non avrai mai, ma, lo desideri, e quindi, devi andare alla ricerca, basta, la ricerca, non dico più la ricerca della verità, dico la ricerca, perché comunque vuol dire, che sto ancora cercando qualcosa, allora, cercando, cercando di lavorare, sull'arco della vita, quindi quello che vi ho detto brevemente, è che ad un certo punto, ho avuto la presunzione, non vi ho capito tutto, ma vi ho capito qualcosa, che a me potrebbe essere, non voglio dire anche utile, ma buono per me, pacificatore per la mia anima, un pochino, avere l'impressione di avere degli occhiali, che vedono meglio, che mettono a fuoco meglio, è stato proprio, quando sono riuscita, finalmente, dentro di me, a fare dialogare, le cose che conoscevo, con le cose che, avevo conosciuto dopo, quindi, riuscire a leggere, il Vignana Bairava, non con delle interpretazioni strane, ma dentro l'arco della vita, riuscire a lavorare, e poi, per inciso metodo, ma anche, come poi è stato sviluppato, l'abbiamo proprio fatto così, sul simbolo dell'arco della vita, e tutte le conoscenze, delle energie, che ci vengono, invece dai Tanka, che ci vengono dall'esperienza, con gli dialoghi, con i tibetani, perché nell'arco della vita, se noi lo amiamo, è un simbolo, che contiene tutto, le conoscenze, le sapienze, le intuizioni, e anche le attuazioni, di qualunque altra conoscenza, noi siamo portatori, allora ho cominciato, avere l'impressione, che ero già della danza, che non ero più nel soffocante ricerca, adesso non ho capito niente, ma sì, qualcosa, o se non ho capito, ma fluisce, e le cose cominciano a prendere un senso, anche cose diverse, perché mi sono accorta, che nell'altro realità, ci stava dentro tutto, non i libri letti, che non è importante, ma le esperienze, perché secondo me, molto del mio disagio, era dato dal fatto, che le mie esperienze, non coincidevano, con la filosofia, la mentalità, la conoscenza del mondo, in cui io ridevo, se la mia esperienza è, che posso sentire una persona lontana, e mi dicono, che se la voglio sentire, gli devo telefonare, io non mi ritrovo, io posso, se io posso sentire, che posso essere qui e là, e mi dicono, che posso essere solo qui, io non mi ritrovo, è perché, dipende dalla nostra percezione, della realtà, poter accogliere, più o meno limitazioni, nei concetti, come diceva, Axley, in un libro, che sicuramente avete visto, che era le porte della percezione, ha spiegato nel modo migliore, il senso, che non esistono, idee di realtà differenti, esistono idee di percezione, differente della stessa realtà, e questa è un'esperienza, che noi facciamo, quotidianamente, in qualunque situazioni, questa sala è piena o vuota, dipende, questo momento per me, beh, è mezza piena, perché sono delle persone, che vogliono molto bene, certo, non ce ne sono delle altre, ma voi, io desidero dirvi delle cose, dal profondo, per motivi diversi, certo, ma per me, alla fine, può valere più questa, questa sala di oggi, che non, un fiume di gente, a cui non vogliono parlare di me, tra l'altro, io non parlo mai di dare le conferenze, avete notato? Oggi mi ha avuto voglia, perché? Vi voglio bene, vi voglio parlare, di te, allora vi dico, quando l'albero della vita ha cominciato a essere vivo, sotto i miei occhi, cominciava a muoversi, ad accendersi, ed era l'albero della vita, non c'erano più concetti, diventava, chiamiamola esperienza di meditazione, improvvisamente i conti tornavano, allora ho detto, non è un glifo, psico, emotivo, somatico, come dicono, non è un punto, su cui mettendo, per esempio, ho fatto le meditazioni con Vesco, il professor Vesco, che sicuramente tutti conoscete, e lui ha seguito il lavoro di Dion Fortune sulla cabala mistica, che questa probabilmente è un accenno di cabala cristiana, diciamo, ma è l'albero della conoscenza, non è l'albero della vita, perché fino al dopoguerra, quando gli ebrei della sinagogia di New York, nei personaggi deputati, a rappresentare l'insegnamento ebraico, in una conferenza stampa, mi sembra del 1956, ma non vorrei, degli anni, no, scusate, del 40, e a finta la guerra era l'anno 2, in questa conferenza stampa, in New York, il rabbino capo della sinagogia, il rabbino delegato alla conoscenza, dell'insegnamento della cabala, con Ariel Kaplan, che presentava questo libro, ah, ah, nel vasto di lato, Sede di Ezia, questo dice, questi sono i nostri codici, li pubblichiamo tutti, non ci sono codici segreti, ne abbiamo avuti abbastanza, e questo, a prescindere le parole, grazie, è stata una dichiarazione di ammistizio, non voglio dire pace, di ammistizio, dalla frangia più mistica, degli ebrei stessi, che sono i chassidini, o chassidini, o una pezza della tua voce, e loro ci dicono, se perizia il libro della creazione, in questo modo, non è stato creato, è creata la realtà, qui e ora, in questo modo, in queste condispondenze, ma tutto questo libro, di cui oggi, ci rimangono, poco più di 4 capitoli, di cui si diceva, fosse di 400 capitoli, sì, nella leggenda, non è altro, che la spiegazione, del primo, capitolo, della Bibbia, ebranica, la spiegazione, di quei versetti, di quei pochi versetti, che cosa voleva dire, versetti, ci siamo da volte, avete sentiti, ripetuti come una storia, come una favola, non si capisce, metafora, favola, forse molto meno, forse molto di più, forse molto di più, perché, pensiamo sempre, che il libro, c'è la Bibbia, chissà come grande, sono 3.700 qualcuno, lettere, non è tanto grande, comincia con una BAT, finisce con una LAB, e dal mezzo c'è una LAB, questo basta e avanza, da questa osservazione, comincia a capire, che è, visto che non è stato un libro, nato da niente, è stata una sintesi, un taglia e cuci, di tanti altri libri, anche precedenti, alla fine, vuol dire che, questo che questo libro è, ci sono molti messaggi dentro, e si potrebbero tirare fuori tutti, o almeno, pian piano, a seconda di quanto noi, non siamo, con una grande mente, ma delle volte, riserva, quando riusciamo a far piccolo, la nostra mente, e riusciamo ad entrare, con la famosa porta stretta, molto stretta, la nostra percezione, sottile, da A, che viene chiamata, coscienza, unificatrice, cioè dove, la percezione, della realtà, arriva, insieme, al tentativo, di capirla, perché, non possiamo capire, ciò, su cui ragioniamo, se, questo, l'argomento, del nostro ragionamento, non è un'esperienza, dei nostri sensi, è un senso apposta, finché lavoriamo, con cinque sensi, ragazzi, non possiamo capire, qualcosa, che non è, non può essere, oggetto, di esperienza, non abbiamo, facoltà, per capire, invece, partante, facoltà, molto, più sottili, più veloci, analogiche, se preferite, e poi, un'altra cosa, che, improvvisamente, non hai studiato, ma sai, e sai, come funziona, anche se, magari, non sei da te, ma, di tutto questo, vorrei tornare, all'algo della vita, quante volte, l'abbiamo visto, vuoi tornare, perché potrei fare, a voi, per ore, e allora, vorrei tornare, a questo glifo, a questo simbolo, a questo algolo, della vita, che avete visto, quello che, prima vi dicevo, semplicemente, quello che trovate, nei libri, non è detto, che sia il glifo, dell'albero della vita, perché qualcuno, è sfuggito, che nel Genesi, dice, che lì c'erano, tanti alberi, dal tutto, tra cui, l'albero della vita, e l'albero della conoscenza, del bene e del male, e gli alberi, sono diversi, sono due, e sono davvero diversi, perché, la conoscenza, del bene e del male, è un'altra cosa, noi conoscenza, questo per esempio, è una raffigurazione, di un algolo della vita, questa, è una raffigurazione, di un algolo della vita, completamente differente, questo è l'albero della vita, è l'albero della vita, dei ruidi, questo è un algolo della vita, centrico, questo è l'albero della vita, di avatar, tra loro madre, quante storie, e poi si poteva dire con calma, sugli alberi, l'albero, l'albero della vita, l'albero, che è un mondo in sé, che si nutre della terra, e va nel cielo, le cui foglie stesse, quando cadono, sono in concime, in un ciclo vitale, che dà, che dà fiori, che dà frutti, che dà riparo a tanti esseri, che dà ombra, che dà sostegno, l'albero colpisce, anche l'immaginario, ma sono tanti diversi, certo, hanno tante caratteristiche differenti, ma sicuramente, sono quegli esseri, che radici nella terra, rami, diciamo, braccia, come volete, al cielo, si nutre nella terra, mi dispiace, si nutre anche dal cielo, perché l'albero, come ogni pianta, ha bisogno di luce, senza luce, una pianta può esistere di lua, senza acqua, ma senza luce, la pianta muore, e l'albero, c'è un disegno, a cui sono molto, molto affezionata, perché è stato, l'inizio di intuizioni, molto importanti, questi sono alberi, tra le volte, l'albero, sembra, adesso ve lo, ve lo posso anche provare, eccolo qua, questo, è un disegno sumero, ci sono, questo è, il padre, assomiglia un pochino, non è un piccione, è padre, assomiglia un pochino, poi, la colomba, quello che volete, ha un triangolo, ma, qui ci sono, gli esseri, che sono i sacerdoti, che sono, collegati al padre, con, questo, questo, nastro, che però, si di porca, in due, quindi, due, rigoli, questi sono, angeli, geni, all'alti, che stanno, dietro, stanno, dietro, io direi, che controllano, che gestiscono, i sacerdoti, perché loro hanno, in mano, qualcosa, che nutre, i sacerdoti, e questo, è l'albero della vita, questo, è una schematizzazione, di un basso rilievo, molto spesso, io, ho adottato anche, per mantenere, questo simbolo, la graffia, dove c'è solo, il genio, e l'albero, senza i sacerdoti, e il loro legame, con, chiamiamolo Dio, con lo spirito, ma, questo, allora, l'albero della conoscenza, l'avevo preso giù, farlo vedere, questo, questo è un'immagine, che chissà, quante volte avete visto, della regola, che spesso, i libri, si, sono copiati, l'uno dall'altro, questo, fino al dopoguerre, ne ha considerato, l'albero della vita, quindi, medioevo, questa porta, lucis, per esempio, in un antico testo, già, è fatto, come, l'albero della vita, vedete, cioè, già è disegnato, in questo modo, non in questo, è disegnato, in questo schema, questo è uno schema, ragazzi, guardate, sapete che differenza, cerca questo, e questo, e la porta, lucis, la porta della luce, ce ne sono parecchie diverse, ma, guardate, la disposizione, di queste dieci, luci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, è identica, qui è soltanto accennata, e tratteggiata, la possibilità, dell'apertura, di una coscienza, differente, ma non è questo il punto, fate dita, che qui non ci sia nulla, sono dieci anche qui, ma quelli che sono posizionati in un modo diverso, sono questi detti sentieri, che collegano le luci, chiamate sepiro, tra l'uomo, cioè le relazioni tra le luci, queste due relazioni, una e due, qui non ci sono, vedete questi due, non ci sono, sono invece portate in questa posizione, questo incrocio, che qui non c'è, che serve questo, vedete, e la spiegazione c'è, è molto chiara, questo è l'ado della vita, e la vita permette, prevede, dei passaggi di chiave, della coscienza, perché la vita è evolutiva, perché è il trastorno, si trasforma in se stessa, per l'autonomase, la vita è trasformazione, mentre questo, che è l'ado della conoscenza, non prevede, non può prevedere, una trasformazione in sé, noi non possiamo trasformare la nostra conoscenza, per cambiare noi, per poter trasformare la nostra conoscenza, quando ci parla la Bibbia, e poi ce li spiega, no, l'ado della vita non ce lo spiega, ci dice che era là, quello ce n'è qui niente, ce lo ripete, una parte per tutti e due, due parti, ma ci dice soltanto, che ce l'ado, in quel giardino, ce l'ha anche l'ado della vita, poi ci dice, che c'è l'ado della conoscenza, in cui frutti, danno a chi li mangia, il potere di distinguere il bene dal male, non è che danno il potere di volare, il potere di vivere per sé, danno il potere di distinguere il bene dal male, cos'è che distingue il bene dal male? Il vizio, io giudico che questo è buono, e che questo è cattivo, che questo è giusto, e che questo è sbagliato, cosa succede quando Adam, o Adamo come preferite, arriva a lui, a un certo punto vive lì, con gli altri animali, vive con gli alberi, non gli manca niente, sta bene, è in amicizia col suo dio, a un certo punto arriva al suo dio, lo chiama, lui, noi diciamo, di solito la lettura è perché lui si vergogna che è colpevole, perché il suo dio gli aveva detto, guarda, fai quel che vuoi, ma non mangiare, il frutto dell'albero della conoscenza, il serpente, sapete tutto lo stesso da fare, però dice, guarda, non vuole, perché se tu lo mangi, diventi simile a lui, lui è già simile a lui, ha fatto la sua immagine, va bene, lo fa, mangia quel frutto, cosa succede quando mangia il frutto della conoscenza? che quando arriva al suo dio, magari accontente, ciao, dove sei? Che cosa fa, Adamo? Di tutte le picche cose che potrebbe fare, chiede scusa, si vergogna, ma non si vergogna, perché ha disobbedito, si vergogna, perché è nudo, e il suo dio dice, vieni fuori, giriamo qua su perché sono nudo, allora pensiamo un attimo, parliamo di fantasia, avete un gatto a casa, un fagnolino, pensate, andate a casa e dite, è nascendo un gatto, il vostro gatto si nasconde, perché è nudo, il vostro gatto non si vergogna, perché è nudo, nessun animale si vergogna, perché è nudo, nessuno che giudichi la nudità, peccato o spoco, chissà perché è sbagliato, si vergogna, eccetera, che cosa è cambiato in questo uomo, che improvvisamente giudica in cose buone e cattive, in bene e male, cos'è questa conoscenza se non la rinuncia, la sconnessione dal mondo naturale e l'intelligenza, certo, noi siamo intelligenti, e ora diciamo, questa cosa è giusta, e questa cosa è sbagliata, siamo Dio, giudichiamo, possiamo farlo, e ci arrondiamo, appunto, questa capacità di conoscenza, ecco la conoscenza, la conoscenza porta con sé, tutti i guai che sappiamo benissimo, porti la rinuncia, l'innocenza della natura, ma porta anche con sé, il grande patrimonio, certo, della sofferenza, però della conoscenza, noi possiamo conoscere, l'intelligenza ci permette di conoscere, di elaborare autonomamente, di sbagliare, e sbagliando, piano piano, magari, riconnetterci, riconnetterci, ma non è, infatti, non sono interessata ai giudizi, non è di questo che voglio parlare, ognuno farà i suoi giudizi, io, le voglio solo, appunto, buttarvi, così, degli smonti, io vi dico questo, se questo è l'albero della vita, e questo è l'albero della conoscenza, devo vedere come sono diversi, perché nella mia vita di oggi, nel mio sentire, qual è la differenza? La differenza è questa, immaginiamo che questa sera, finiamo la serata insieme sulla spiaggia, si può fare, possiamo andare a mare, quando sarà un certo orario, noi vedremo che il sole, scende, no, qui scusate, se lo vediamo, non siamo a Pia Reggio, quindi lo vediamo, che si avvissa dietro le montagne, quindi, bene, non possiamo andare a quando, dobbiamo neanche andare a mare, guarderemo le colline, il sole a un certo punto andrà giù, e se qualcuno di noi, non è contento, in questi giorni, guardando il tramonto, ci sentiremo un po' tristi, si abbassa la pressione del sangue, se prima eravamo un po' depressi, il tramonto ci inabissa, che dopo andiamo a sciaccare le pastilline, perché non stiamo bene, ci sentiamo o assonnati, o comunque senza spinta, viceversa, all'alba, quando guardiamo il sole, che piano piano, sale, noi ci sentiamo, un giorno nuovo, una possibilità, anche se il giorno più, che è stato un disastro, cioè, ok, oggi è un giorno nuovo, cioè, vedi il sole, sapete, per esempio, in Ayurveda, i comparecenti, vanno portati all'alba, a vedere il mare, nel mare, davanti al mare, il sole che sorge, perché mentre il sole sorge, tu spingi il sangue, perché hai entusiasmo, nuovo, e questo è vero, che lo misura il medico, se ti misura la pressione, c'è un cambiamento, c'è un cambiamento verificabile, non possiamo dire che non è vero, e noi diciamo, il sole sorge, si alza, verso il suo trionfo, e questo è vero, perché mi cambia, mi cambia l'emozione, e l'emozione porta con sé, energia, chi diceva stamattina, solo la mattina, Luigi diceva, solo la mattina, a Roma si compiono determinati culti, pomeriggio, cioè dopo che il sole, si lascia scendere, dal suo mezzogiorno, l'energia è solo incalare, peccato che ce l'ha fatto, la nostra testa, che dice, non è vero, il sole, la terra sta ferma, cioè, scusate, non è vero, il sole sta fermo, è la terra che gira, non sono uno stupido, so benissimo, che è la terra che sta girando, il sole non va da nessuna parte, questo è l'acqua della conoscenza, io so, e allora che sono lì che, vedo questo sole che sorge, mi dico, no, no, tutte sciocchezze, è la terra, sei tu che se tu non te ne accorgi, ma è la terra che sta girando, quella è la conoscenza, il gusto di rovinarci delle cose, ma soprattutto è un tipo di conoscenza, quella che fino adesso, diciamo, ci passiamo l'un l'altro, vi è accorto la scienza, ogni tanto la scienza cambia tutta, perché dice, mi sono sbagliato, adesso dite cose, per noi, esseri umani che qui nasciamo, mi dispiace, nella nostra vita, e ce lo dimostra, il nostro sistema linfatico, il sistema diandolare, proprio nelle azioni, nelle nostre diandole, le azioni sono molto concrete, si producono ormoni, in alcune zone, in alcune aree, in alcuni tempi della giornata, e non in altri, mi dispiace, ma per la mia vita, la verità per me, relativa alla mia vita di essere sulla terra, è che il sole sorge un attimo, lascia stare che la terra gira, perché nella mia emozione, che è quella che mi sposta delle cose, ormoni, sangue, anche organi, il sole sorge, quello è l'albero, della vita, no, non lo diciamo, ho sbagliato, la vita, al sole, come centro, di calore, che manda, tutti i pianeti, e col sistema, della sua gravità, della trazione a sé, quindi i pianeti, sono un'emanazione del sole, e quella è la vita, ma la nostra conoscenza della vita, è che il sole sorge, e scende, la mia conoscenza della vita, sono due livelli, completamente differenti, allora, quando noi andiamo nel lato della conoscenza, così vi ho spiegato, ragazzi, iniziati come, da osservatori, da maghi, da esoteristi, vi dico, guarda, questo, ma, il cult, è da dei nomi, queste luci, sono state dette, date dei nomi, questo è la corona, e questo è il regno, e questo regno, per noi, è la terra, allora si dice, questo è il sistema terra-luna, terra, e questo, subito dopo, questa luce è la luna, allora, se l'essere umano, guarda il cielo, in una notte, di ipotetico allineamento, noi vediamo, noi siamo qui piantati, sulla terra, qui vediamo, diritti a noi, vediamo la luna, Poi vediamo Mercurio, scusate, Venere, poi vediamo Mercurio, poi vediamo Sole, perché, abbiamo l'impressione, che quella, questa sia la distanza, dei pianeti della terra, invece è un gioco, poi ottico, poi vediamo Marte, che ci sembra, un pochino più lontano, vediamo Giove, poi vediamo Saturno, e poi non vediamo più niente, a occhio nudo, perché la nostra conoscenza, si deve andare a di lì, allora si comincia a dire, che questo, è il circolo dello zodiaco, e questo, che è l'uno, è il primo mobile, questa è la nostra conoscenza, ma la nostra conoscenza, non è irreale, ha una sua realtà, molta alchimia, anzi, direi che tutta, è costruita sull'algo della conoscenza, perché io gli ho dati i pianeti, ma i pianeti sono collegati, a degli organi, sono collegati, hanno delle corrispondenze, con i metalli, hanno corrispondenze, con tanti ambiti, anche, diciamo così, psicologici, animici, fisici, tutto cose molto interessanti, io direi, sì, ma relativamente superficiali, se guardo nell'algo della vita, cos'è il numero uno del sistema solare? È il sole, è il sole, e vicino al sole, c'è Mercurio, astronomicamente, guardando il sistema solare, e vicino a Mercurio, c'è Venere, poi ci siamo noi, c'è la Terra, noi siamo qui, Terra, Luna, perché la Luna non è un pianeta, è il nostro satellite, poi c'è Marte, e poi c'è Giove, e poi c'è Saturno, poi c'è Urano, Nettuno, Plutone, e questo è l'algo della vita, c'è la vita, secondo cui, diciamo di modello, secondo cui tutto ciò che vivo in questo sistema solare, sole, mondo del sole, uno, la vita si manifesta, visto così, contro un foglio, ci sembra un disegno, ma perché non dobbiamo vedere che questo, non sia, e mi sono sempre chiesta, perché i sentieri, anche nei neglifi antichi, dov'è quello di prima? Questo? Perché sono sempre fatti con due, non con uno? Perché qui non c'è una riga? Perché è doppio? Ma perché non possiamo pensare, che se lo vedo in forma tridimensionale, questa forse, è una lenta spirale a scendere? perché lo devo vedere? Come? Perché lo devo vedere? Vedi a secondi come i suoi occhi vedono? Perché non devo pensare, se fosse così? E se venisse giù così? e se fosse... E allora, ho fatto un altro disegno, sono a prendere i seti di Ezera, sono stata su un po' l'altro, diciamo. Il seti di Ezera, ti dice semplicemente, con queste 32 lettere, con questi 32 suoni, l'artissimo, il cui nome non è pronunciabile, ha creato, però quell'altro deve essere... sta creando. Perché nessuno può credere, secondo me, che... non voglio dire... perché c'è l'intelligenza che sta cercando un inizio del mondo, studi, astrofisici, da dove riterri il banco, se no... scusate, nel sentire, non vi sembra che la creazione è in questo momento? vediamo che siamo qui, in questo momento, se non ci fosse una potenza creatrice, in questo istante, questa frequenza, questa vibrazione, che abbiamo capito alla fine essere la materia, non pensate che se noi fermiamo il moto, non esiste niente? Avete pensato, se siamo fatti di vibrazione, se alla fine più studiamo e meno materia troviamo dentro la materia, ma se si ferma tutto, scusate, come dicono a Roma, svanulliamo tutti. Tutto questo è nulla, e invece è forte e concreto, perché in questo istante e ora il nome, il verbo, chiamatelo come volete, la frequenza della vita, è, e voglio appunto darvi una provocazione nella vostra intelligenza. Se questo è l'albero della vita, io qui dentro ci devo trovare tutti i dati di ogni sistema intero. ho detto del sistema solare, ma potrei essere io, potresti essere tu questo, ma questo potrebbe essere l'albero della tua vita. Se quando l'albero della tua vita qui ci metto il tuo sole, qui ci metto il tuo mercurio, qui ci metto il tuo bene, e così via. Perché ognuno di queste luci ha una sua valenza, questa è la tua, è la corona che prina, è una triplice corona che perde. Questa è l'Otma, che è la tua saggezza, questa è la tua intelligenza. Dina si dice intelligenza, ma Dina è anche un'altra cosa, non è solo l'intelligenza, è la capacità di organizzare in modo funzionale alla manifestazione i dati e le energie e le forze. Qua c'è l'accoglienza, questo è il tuo amore, e sed si traduce in realtà in un po' l'amore, sed vuol dire grazia, capacità di ricevere la grazia. Tutte cose che noi possediamo in realtà di diversi o viceversa non possediamo, ma il dato è sempre quello, noi possiamo essere capaci di ricevere la grazia o non capaci di ricevere la grazia. Tempo indietro, non vedi la chiamata che è sette, non c'è sette, le vedi la chiamata gedula, cioè la debolezza, la cedebolezza, gedula può dire, a differenza di gedula, che vuol dire la forza, però qui è la forza di opposizione e qui è viceversa di lasciarsi permeare, per questo è la gebole e gedula. Questo è Tiferet, Tiferet tradotto sempre come bellezza, e qui rigiocavo un po' sulle parole, perché il cuore è Tiferet, ma Tiferet è la bellezza dell'armonia, ma abbiamo detto che questi siamo noi, la luna, la terra, ma nella terra noi così impariamo dalla terra, dove teniamo la luna, qualunque astrologo ci dice che la nostra capacità di ricevere, di accogliere, da cosa ci lasciamo, da cosa, soprattutto da chi ci lasciamo permeare, e mi sembra se questa è Marte, la nostra capacità invece anche irragionevole di avere passione, di usare la forza o la aggressività, vede quanto siamo forti e quanto siamo deboli. La bellezza è Giove, è l'equilibrio, questo è su questo su questo pilastro che possiamo identificare allora questo è il pilastro centrale della cosetta via a sull'area della conoscenza si, soprattutto della cosetta cavala cristiana c'è tutto un momento su delle frasi dell'angelo che non si capiscono dove dice lì Cristo mora sulla croce lì Gesù lascia il mutino e spiro e in quel momento si spacca il velo viene squarciato il velo del parochet diceva sempre il parochet è il velo del tempio c'è quello che ti dice è un segno di cattivo auspicio davvero poteva dire è come tipo passato un gatto nero ma non so cosa vuol dire vuol dire lì c'è il pathos lì si racconta della morte di un santo molto presunta morte ma sicuramente non stava bene cosa accetta a scrivere e in quel momento viene squarciato si squarcia il parochet perché il velo del tempio allora questa primità viene vista come il tempio dello spirito vedete sono anche gli angioletti questo è il livello spirituale allora è il momento in cui il Cristo Gesù che è rappresentato in unica figura da questo triangolo e in particolare da questa luce chiamata Tiferet la bellezza bene allora quando lui muore questo velo questa chiusura da qui a qui non si va si squarcia si apre perché in quel momento lui va allo spirito questo è quello che ha scritto la frase perché tra il triangolo superno vedete partono due sentieri che vanno direttamente al cuore partono e partono a Cristo e basta dopo hai questi ma non vanno dal triangolo quando invece vado sul lato della vita io qui ci ho messo due non io naturalmente la tradizione ha messo due potenti sentieri che dice questo va qui questo va qui tutto si inverte l'episfero sinistro corrisponde alla mano destra non alla mano sinistra nella riflessologia quando ti tai in aria al piede sinistro massaggi la mano destra giusto? non più sapratico questo chiedetto sappiamo che è l'episfero sinistro che è Dina il Dina porta la conoscenza attraverso l'elaborazione dei dati certo ma Dina sono le 50 porte della conoscenza ma ne parliamo una parola posso dire che Dina in realtà questo cresce aumenta attraverso lo sviluppo della parola come sappiamo tutti ma la parola cioè l'intelligenza si fa profonda e poi diventa autonoma nelle opinioni attraverso la scrittura cioè attraverso la mano destra il bambino e cresce nella sua personalità moltissimo soprattutto dopo l'uso dopo la scrittura e questo secondo me sono un pochino contrario dal punto di vista tradizionale al non invitare cioè lasciare che i mancini siano mancini come niente fosse quando in realtà c'è un tempo di cui il bambino cioè deve capire con che mano deve scrivere al di là veramente delle percezioni non è questo dovevo dire ma adesso vi dico qualche altra cosa sempre nel famoso primo capitolo del Genesi non ve lo leggo per questione di tempo sì peccato perché vediamo che i verbi che dichiarano della fase l'azione divina sono 32 32 sono i sentieri della sapienza attraverso cui tutto viene creato 10 sono le sette che è tradotto di solito come luci non è solo luce perché è anche la gemma cioè la piepa preziosa è la gemma è anche il libro la conoscenza l'insieme di dati che ognuno di questi ognuno da solo è un contenitore di simboli e suoni e frequenze e ricchezze potenza dell'anima ognuno come fosse un mondo a parte perché è un cielo a parte ne ha tre che indicano e questo per aiutare la memoria vi dico che di questi 32 verbi uno è Bereshit Barai cioè il primo dopodiché nove volte Dio disse allora Bereshit Barai e per nove volte quindi dieci in tutto Dio disse cioè la parola fa accendere le dieci luci per tre volte Dio fece uno due tre per sette volte Dio vide e sette sono i sentieri o verticali quindi uno due tre quattro cinque sei e sette e dodici volte invece c'è tante altre cose sono tanti altri verbi misti le dodici volte sono i sentieri ombri cioè uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici giusto? bene l'alfabeto ebraico con cui si è scritto a caso il giornale ma con cui è stata lasciata la Bibbia e tante altre cosette è composto da 22 lettere queste 22 lettere oggi facciamo fatica a comprenderle perché noi usiamo il linguaggio come alfanum cioè per noi il codice è secco cioè a è a è un fonema che insieme ad arti mi dà una parola significa come lo dà la parola do e di eccetera in questo codice le lettere non sono solo lettere perché la lettera indica il fonema indica il numero a lette 1 lette 2 dimmeli 3 e così via sono notte musicali e sono a loro volte immagini uniriche che compaiono nella nostra vita nei nostri sogni nei simboli che vediamo e che hanno significati molto precisi ecco perché la gematria o gematria cioè la scienza dei loro numeri è tutt'uno come scienza delle loro lettere ed è una scienza unirica a tutti gli effetti e non lascia spazio a tante interpretazioni è quello ed è solo quello allora nell'interpretazione diciamo così l'interpretazione prevede solo una grande conoscenza delle lettere stesse dei simboli e alla fantasia personale rimane davvero uno scarso spazio ma se questo è l'albero della vita cioè è quel simbolo che rappresenta ogni essere completo cioè non rappresenta il mio braccio non posso applicare l'albero della vita per leggere il mio braccio però posso applicarlo per capire me stessa per capire un'altra persona posso applicarlo per capire un'azienda che comunque è un'identità è un'ente posso usarlo per capire un paese che abbia un'identità un pianeta la vita intanto lo uso per il sistema solare non lo uso per capire l'universo non ne conosco i pezzi non so come collegarcelo ma tutto ciò che io voglio conoscere e ora per conoscere conoscere in profondità attraverso l'albero della vita lo posso fare lo posso indagare sapendo che ho un limite io non posso conoscere l'uno e perché so questo c'è scritto in tanti libri sono meditazioni di rabbi e legger di Talmud però c'è una cosa che della mia infanzia mi ha colpito adesso ve lo racconto c'è un brano del Bada Valdita dove Arjuna preso poveretto come lo capisco da tutti i suoi problemi interiori nella guerra perché credo che essere in una guerra sia brutto proprio perché non sai dove stare aver trovato la soluzione ci sono solo una soluzione io ho dei fratelli da una parte o dei fratelli dall'altra amo tutte queste persone si stanno facendo la guerra è meglio che quella cosa più semplice che io mi faccio ammazzare così almeno la faccio finita perché io non posso uccidere le persone che amo però se mi faccio ammazzare lascio poi scoperti diciamo indifesi altre persone che amo non mi sembra di impazzire allora quello che è il suo maestro in quella vita che era Krishna che era il suo coppiero ma è anche il suo maestro si ferma e gli parla e il canto del beato questo significa Bhagavad Gita gli parla ma a un certo punto lo conviene come dire si gli parla e lui un po' si affieta ma poi dice il signore cioè tu sei il mio maestro ma mi stai davvero connettendo con le cose importanti io capisco da quello che tu mi stai dando che tu non sei Krishna cioè la persona che vuole Krishna era la sua corte come dignità e il bestiale di Krishna da adulto perché il ragazzino faceva la domanda ad adulto e da fare il diplomatico quindi lui andava da una corte all'altra facendo lavoro diplomatico nella guerra per stare vicino al suo amato il discepolo gli fa addirittura la coppiera un altro problema dell'orgoglio ovviamente e lui dice io capito che tu non sei Krishna cioè non sei il coppiera non sei l'amico non sei ma tu chi sei che conosci queste cose che conosci la vita così profondamente allora Krishna gli dice una cosa semplice dice tu i tuoi occhi non li possono vedere la tua mente non li può capire ma puoi conoscermi vedermi indagando i miei nove attributi e in quel momento Krishna acqua la trasfigurazione cioè lui lo vede chiaramente trasfigurato vede come la sua luce è quella di migliore di sole che vuol dire vede la realtà non vede cioè l'apparenza non vede si parla vede tutta quella luce che ci sta dietro la realtà i nove attributi sono esattamente quelli che noi possiamo imparare a indagare attraverso l'arco della vita perché quando e poi noi naturalmente pensiamo a Dio immediatamente ma pensiamo a Gianfranco che qui davanti a noi senza nulla toglie a Dio abbiamo Gianfranco davanti io magari lo conosco da un puntino più tempo di voi ma io non lo conosco come non posso conoscere niente o meglio posso iniziare ad indagarlo diciamo così attraverso i suoi nove attributi attraverso il suo corpo fisico attraverso la sua relazionalità attraverso il suo lavoro social con gli altri come si comporta con gli altri che lavoro fa che ruolo sociale ha quale sembra essere la mission della sua vita i suoi punti scomodi le li abbiamo tutti lui sembra rotondo ma secondo me qualche spigolo c'è anche lui e poi la sua capacità di autocontrollarsi la sua generosità o meglio la sua compassione verso gli altri compassione non è pietà cioè quanto lui riesce a sentire l'altro nel bene nel male nella gioia e nel dolore quanto sei capace di farne calco qual è la sua incisività qual è la sua opera forte qual è la sua forza la sua determinazione qual è la sua generosità qual è la sua intelligenza la sapienza faccio fatica ma può darsi che non sia voglia magari vi fa vedere quanto lui percepisce il suo spirito ma io il suo spirito non lo posso conoscere capite cosa voglio dire qualunque ente io posso solo cercare di tagliare i nove attributi ma insieme cioè insieme di questo intanto mi dà la conoscenza molto più approfondita che non voler conoscere una persona a impatto a impatto io vedo solo questo vedo il suo regno vedo come il suo spirito si è manifestato ad oggi anche incontrando il karma naturalmente e lavorando tanta vita perché sappiamo che malto esattamente come muladhara chakra è tempo cibo salute affettività niente da fare comunque il cubo devo cominciare a costruire solo da lì ma io poi vedo solo questo di una persona tutto il resto è quello che trattila filtrato dalla sensibilità non sensibilità sensibilità acquea io svanishtana c'è la sua immagine quello che lui mi mostra posso vedere che il suo parrucchiere è diverso da quello di Simonetta per esempio è l'immagine che lui mi mostra è un esempio ma andiamo a più in profondità questi queste tre io vi ho detto rappresentano i tre conflitti fondamentali di ogni ente in questo caso di una persona se fosse la pena è un po' lì e se fossero l'inconscio il livello conscio e il superconscio come qualcuno dei capologati se fossero come ce li cinghi il passato il presente il futuro cioè il nostro programma diciamo così divino che portiamo dentro nella nostra coscienza se fossero i tre colori alchemici il nero il bianco il rosso se nel sistema umano fossero il ventre il torace la testa i tre grandi sistemi sono sempre il drama di una sciva sono sempre il passato presente il futuro sono sempre non vi non intendio se questi fossero i sette 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 pianeti sette doni la nostra eredità su questa terra se fossero i sette cagrano sotto un punto differente i sette pianeti sarebbe bene da un punto di vista astrologico cioè quanto la conoscenza nell'albero della vita è predisposta perché non è vero che io sto a conoscere tutto quello che voglio conoscere perché sono delle cose che io ho studiato matematica ma è stata una tragedia con l'albero posso studiarla non è detto che la capisca non è detto che la conosca io vorrei conoscere tante cose ma la vita è così breve ma alla fine imparerò quello che le mie questi sentieri mi permettono sapete cosa sono questi sapete come vengono divise le lettere cosette sacre della creazione tra lettere e madri madri perché sono i tre elementi primordiali ed eterni le lettere queste le sette sono le lettere doppie la quale doppiezza la cui doppiezza noi cosa fatica a capire la lingua italiana sono poche le lettere doppie noi abbiamo la c di ciliegia e la c di chiesa in realtà abbiamo anche la c di cane ma non ci facciamo caso non è vero ci dobbiamo mettere l'acca abbiamo fatto questa forma grafica ma in realtà la c è anche quella di cane è quella di carota invece abbiamo ciliegia abbiamo ciglio abbiamo altre questa con doppio il g ce l'abbiamo ghiottone e giro tondo e invece in ebraico ce ne sono sette che hanno una varietà abbiamo la beit rimel dalet in per esempio di sans che ho anche cose c'è la d la d e la t che è buddha è una diacca non è una di la b anche il sans può essere con o senza h la t è t o t e qui ci sono beit ghimel dalet kaf pe resh e tab tab il sigillo il sigillo è il famoso quattrocento il sigillo del santo è quel settimo sigillo sempre che quello giorno si aprirà o si sta prendendo dipende come vogliono leggere l'apocalisse comunque queste sono le lettere doppie ma le lettere degli elementi erroneamente tradotte e poi gli errori sapete che soprattutto perché i libri si copiano sono contagiosi sono state tradotte come lettere semplici ma semplici perché non sono la pronuncia doppia non c'erano doppie neanche le matrici semplicemente devono essere tradotte non sono semplici sono elementari elementari vuol dire non semplici vuol dire degli elementi perché sono dodici e rappresentano i quattro elementi dello zodiaco tre per ogni elemento tre lettere del fuoco tre lettere della terra tre lettere dell'acqua tre lettere dell'aria e abbiamo i dodici segni zodiacali che dopo ci fanno su sette di erzida ci dice che ogni lettera opera nell'anno il mese nell'anima il segno zodiacale nel corpo un senso un uisim il senso vuol dire ciò che rende veloce ve ne prendo una che accontentate di far per tutto è la lettera che viene posizionata qui tra l'uno e il due e viene pronunciata e e tesa cinque come è teso e viene pronunciato e e cioè con una doppia lettera di cui la seconda ha un suono più alto sempre del suono più alto nella vocalizzazione del canto teniamo così ma mi piace più vocalizzazione nella meditazione centra e questa che però produce nell'anno zodiacale la prima casa questa è la prima casa dello zodiacico vuol dire che l'uno il sole potrebbe nell'altro di Adamo coincidere con la scendente però se lo conosciamo una persona che ha l'ascendente a grado 0,1 0,5 1 della riete abbiamo una persona che ha la prima casa posizionata qui la seconda andiamo a vedere portate pazienza adesso vedete non ho fatto il tempo a tirare fuori adesso vedete io fuori vi faccio girare purtroppo nella mia posta ma parlo prestissimo vediamo sono fatto scrivere ieri oggi ieri le ho perso scusate adesso vi faccio vedere una cosa che molti di voi non hanno visto e questo adele che adele visto così vi posso liberare ho chiesto a Lucio che mi aiuta soprattutto di fare la parte lui ha costruito un programma sull'ardo della vita per cui quando voglio fare uno studio di unardo della vita lui mi mi aiuta a farne i conti e i conti che sono importantissimi i conti vedete perché innanzitutto l'ardo della conoscenza con tutto il rispetto alla mona e per il lavoro di tanti artimisti lo mettono non la parte allora vediamo esistete? allora se io metto i dati dove se la Venezia dice a un certo punto che ci sono leggere la realtà 22 potenze sono le lettere 10 sono le luci 3 sono i pleni la parola pleni è difficoltosamente traducibile perché sono i tre assi ma no allora sì ciao ragazzi quante volte avete visto il disegno delle tre dei tre segni che poi è stato usato anche per scrivere Pax che è diventato poi un segno cristiano credo non so quante volte l'avete visto questo esatto troviamo che è galattacile principale domani qui i tre cleni non sono altro i tre cleni non sono altro che ascendente discendente medio cielo imo cielo testa del drago goda del drago perché questi tre assi sono quindi intorno a cui tutte le lettere tutte le altre lettere si posizionano le dodici case e poi sette pianeti giusto guardate cosa succede perché questo voglio dire c'è qualcuno pochi perché tutti potessero fare un'astrologia leggera fatta di proviamo a fare dei pronostici può darsi che non sia così può darsi che l'origine dell'astrologia dello studio degli astri fosse l'applicazione di un simbolo su una persona io so che la mia piccola esperienza però di 30 anni è che portando una persona a contatto con i simboli che l'hanno generata la persona scambia e si trasforma perché a differenza dell'indagine psicologica dell'indagine astrologica eccetera è a contatto con qualcosa di reale non che gli appartiene l'inverso al quale appartiene questo è l'albero della vita vediamo questo è l'albero ok albero allora albero di Adamo questo è l'albero di cui vi ho parlato mi facete farlo più piccolo se è possibile se è possibile ok questo è l'albero di Adamo di cui dicevamo prima questo è l'albero ad Amma la stessa radice di albero quindi Adamo è un albero un albero della vita è vivo allora l'hanno costruito sotto un albero della vita sotto uno schema diciamo così hanno applicato lo stesso simbolo questo è il suo sole questa è la sua prima casa questo è il suo mercurio questo è un'asse potrebbe essere liberato chi lo sa questo è venere questa è la sua seconda casa questa è la dodicesima ve lo potrei dire tutto però non è questo il punto il punto è sì tutto questo è vero se uno è nato con un ascendente ha un grado a riete perché altrimenti le spalle non mi appartiene o meglio io non sono stata generata in questo modo allora senza dirvi chi è e del resto non lo saprei neanche io guardate cosa succede questo è l'albero della vita di una persona non so chi è non ho i dati qui c'è una Lamed non c'è una EI vi faccio vedere questa è una lettera EI quella che pesa 5 tra le mille una cosa che significa la lettera EI è il collegamento con la voce il dire questa persona dovrà fare uno sforzo per capire il valore della voce perché è chiamato a pronunciare la parola sacra ma sapete che se non pronuncia la parola sacra rischiava la zogna vi ho fatto un esempio dovevo fare le mie è collegata anche al piede destro a gamba destra per dire ma lasciamo stare questa persona vuol dire semplicemente che ha l'ascendente in bilancia questa è una Lamed pesa 30 questa è la scala già toppe la Lamed vuol dire altre cose differenti questa è una persona che dovrà realizzare è chiamata a realizzare principalmente il rapporto con gli altri per esempio la sessualità ma questo nell'apparire della sua persona perché il suo vero destino non è la prima casa il suo vero destino sarà il sole è il sole che ci dà il tempo della vita che mi dà il tempo dell'intervento a partire di domenica questa persona ha l'albero composto in questo modo perché le dodici case cioè scusate le dodici case le dodici lettere degli elementi sono state posizionate nel posto giusto qui c'è la prima casa qui c'è la Lamed questa è la seconda casa no c'è una Luna la seconda casa è Scorpione giusto sapete cosa sono questi segni non previsti qui ci sono delle linee che non ci sono abbiamo detto che i sentieri sono 22 come le lettere dell'alfabeto vedete guardate ma a volte noi appunto non siamo fatto così a volte anziché abbiamo detto che il sentiero è l'energia che si genera dalla relazione tra una setera e l'altra tra la luce e l'altra tra la potenza e l'altra dell'anima l'ascendente e la prima casa di ogni persona indicano questo è proprio la seconda astrologia che è più classica indicano il modo di manifestarsi quindi di apparire a volte se le sentiamo così anche l'apparenza la fisicità della persona non solo il comportamento come si mostra verso gli altri perché 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 la prima casa è la relazione che c'è tra lo spirito che è e la sua percezione dello spirito lo spirito di questa persona dunque 137 gradi mi aiutate 137 in che segno di calè il silenzio allora 120 gradi no qualcuno sa adottare andando di 30 in 30 dove sarà il 120 il 137 30 60 90 potrebbe essere il vergine non c'è niente è il vergine allora questo sole è a questo grado cos'è 17 gradi della vergine questo è il suo in quel grado esatto non del grado che serve la vergine ma in quel grado esatto del segno della vergine ci saranno le indicazioni chiarissime della mission del suo spirito e come dicono gli indiani dell'india non veramente gli astrologi dicono che il sole è la porta dei morti degli antenati perché nel momento in cui noi entriamo nella porta del sole cioè nasciamo noi abbiamo molte cose incerte ma sicuramente sappiamo che moreremo in questa porta di morte però nasciamo con un input spirituale molto chiaro ma non in questo caso l'input spirituale del segno della vergine l'input del grado 137 ecco perché per me è così prezioso che quel calcolo sia fatto non nel modo solito delle tenenti che ci sono grossissime approssimazioni ma va fatto in un modo assolutamente calcolato di matematica e geometrico perché non posso mancare un'indicazione così importante come il grado esatto perché quel numero vuol dire delle cose mercurio che in questo caso ha chiesto il vergine vedete quel puntino quello è la lettera iud vergine anch'esso mi dice questa è la percezione di questa persona che non so chi è la sua percezione del suo spirito la percezione del nostro spirito determina il nostro comportamento la propria manifestazione verso l'esterno quindi la nostra prima casa ecco perché c'è una casa perché le case gli hanno dato quel significato e si dice tradizionalmente io non lo so porto sì tradizionalmente ma la tradizione è sapiente non è meccanica non è proprio uno si è svegliato e ha detto quello vuol dire così quello vuol dire così perché nasce dalla relazione che c'è tra la cruda e la sapienza cioè tra il nostro spirito e la nostra percezione del nostro spirito ecco perché la prima casa significa quelle cose e se noi lì abbiamo dei pianeti cioè abbiamo delle energie vuol dire delle cose stiamo accogliendo un dono o un vingondo e così via per tutte le altre che sono diversamente risposte prima, seconda terza, quarta e così via però vedete che alcuni sentieri sono di un colore differente non mi poto toccare il cuore sono di un colore differente quelli che sono diciamo pieni vedete gli altri sono tutti guati vuol dire che queste relazioni sono appesantite arricchite dal fatto che questi due pianeti per esempio in questo caso vediamo la Luna e Saturno oppure la Luna e Mercurio sono aspettati su un cielo natale cioè sono in corruzione o in opposizione o in trigono o in pallatura ma non nel modo astrologico beh sono vicini sono circa no sono o il grado esatto o il grado prima o il grado dopo perché i gradi di tolleranza per una lettura così profonda sono minimi io non la confuggo perché c'è delle letture con una approssimazione di dieci gradi per la capa la dieci gradi non esiste cioè sono proprio non c'è allora non c'è poi ci sono questi altri sentieri diciamo così che non corrispondono ai sentieri del largo della vita cioè sono sentieri fuori dall'albero cosa vuol dire che in questo caso Mercurio e Urano sono aspettati entro i tre gradi nel cielo natale ma quel sentiero non è previsto dall'albero della vita voi pensate che il sentiero sia un po' come una navi dentro di noi il pubblico energetico diciamo lì è predisposto allora è predisposto nell'albero della vita che Mercurio e la Luna si possono essere in relazione non è previsto che Mercurio e Urano siano in relazione allora vuol dire che la loro relazione che il pubblico c'è perché nel cielo natale c'è è un'emoragia energetica che lui tutta la vita finirà per passare senza quell'errore non riuscirà a residersi perché capita che in alcune occasioni fate sempre lo stesso sbaglio che si vede nel vostro valore della vita c'è un'emoragia quella relazione dannosa per voi per noi se ci vediamo è difficile trovare persone che non hanno emorragie di energia dalla propria vita perché capita che i pianeti siano in una relazione non esatta diciamo così questo dà un numero c'è un modo per calcolarli che ci dà un numero esatto quel numero esatto ci dice che tipo di allore commettiamo perché lo commettiamo e visto che la cabala è anche come tutto ciò che è conoscenza purtroppo per fortuna non lo so ma è anche un po' potenza anche se fa un po' allora noi abbiamo nel momento in cui impariamo le lettere anche gli strumenti per o più di meglio per forre dice è vero io posso essere nato con una gamba un po' più corta dell'altro ma se lo so anziché farmi venire male la schiena saprò qual è la mia stampella e la userò userò una stampella per non avere una di schiena poi vi dico solo questo visto che le dimensioni previste sono sempre comunque 4 e 5 che possono diventare 5 anche per la sapienza della cabala in generale per certe direzze diciamo che questo è un livello questo non è il livello fisico questo è il livello di di essirà cioè delle forme esiste un livello ancora più alto perché questo mi dice cosa succede dietro quella persona al di là delle motivazioni psicologiche passiamo troppo presto a dire questa persona fa così perché ha avuto una madre così ma sapete che questo è vero fino a punto 9 vorrei dire perché delle volte incontri due fratelli che sono cresciuti nella stessa casa vi parli uno della madre una è un'esperienza una ne è un'altra sempre per la regola che noi facciamo le esperienze e riceviamo ciò che siamo disposti ad raccogliere perché se io non sono disposta dentro di me a pensare che mia madre mi abbandona io non penso che mia madre mi abbandona penso che mia madre che è una splendida persona sta facendo delle cose importanti anche per me io non sono abbandonata semplicemente quelle ore non le vedo se invece io ho bisogno di un'attenzione di un certo tipo mia mamma magari sta sempre con me ma sta dormendo sul divano dico che in quale ho piccolo mia mamma mi abbandonava dormendo per curarsi le rughe mentre io sto andando da sola in salotto e potrebbe non essere vero naturalmente nell'uno dell'altro o meglio che mia madre sarà vero il suo e per me è vero la mia percezione ma la mia percezione è predisposta da questo da questo ma anche questo non mi dice una cosa per me importante non mi dice perché dice va bene io sia che sia anche la mamma dice va bene ho avuto la mamma così perché ho avuto questa mamma così o se preferite e anche io preferisco perché sono stata disposta ad accettare questa visione della vita questa percezione della vita perché sono stata disposta a pensare che gli altri mi tradissero per esempio e così io mi sono sentito tradito dov'è e lo provo dov'è e trovo perché perché questo è quello ma non mi basta e voglio sapere ma perché l'origine perché mi deve capitare questo perché io sono disposta a sentirmi allora devo andare molto indietro devo andare a vedere di essere alla fine non a caso il livello della formazione ci dice che quello è il livello della dimensione degli angeli cioè dei messaggeri ma la dimensione degli angeli se io vedo un angelo sono a un livello in cui vedo già anche il demone cioè vedo là dove c'è l'energia che vive di luce e l'energia che si nutre di luce perché la luce non ce l'ha io qui vedo i miei angeli se volete le mie potenze per esempio questo triangolo questo triangolo è una potenza perché è una gente che è chiusa sul lago della vita conteggiando pesando questo dice la chiedezza e pesa questo con quello e io posso sapere questa geometria in questa persona che ha questo angolo della vita posso sapere quale grande potenza geometrica la sua anima possiede per esempio però vedo anche che c'è che qui so anche qual è perché il conto dice qual è però so anche che qui c'è un demone che è questo per esempio questo è il due c'è questo sentiero del cuore dell'albero che coinvolge l'otto che di nuovo fuori dall'albero va a coinvolgere il quattro e poi si unisce questo è sull'albero ma mai da un fatto perché questo triangolo è costruito su un sentiero potente che la persona ha eh sì ma è completamente fuori dall'albero che cosa rende potente ciò che è male per noi il fatto che ci sia della potenza che ci sia della luce allora questo triangolo sarà probabilmente per questa persona della stazione cioè nella sua vita questa cosa che cos'è ve lo dice con i numeri cioè me lo dice il grado che io ottengo a tal punto che in molte questo è proprio la mia esperienza nel tempo ho visto che molte di queste potenze al negativo cioè mancanze di luce perché secondo me questo è essenzialmente il devono è una dimensione di noi di ombra cioè di mancanza di luce che ci affama per cui noi andiamo a sbranare parti della nostra vita e della vita delle persone che lo ho valorato ci stanno intorno allora io lo posso riconoscere perché se non lo e ho visto che questo conteggio delle geometrie ma la geometria intendo proprio figure geometriche chiuse non questo mi da meno fastidio di questo questo è chiuso questo è un triangolo è un triangolo potente la somma di tutti questi valori mi dà un grado esatto che spesso è la Kikons cioè se noi lo riportiamo nel cielo natale nei 360 gradi prende un punto d'ombra cioè un punto dove non ci sono pianeti ma se calcoli bene è a 150 gradi da un pianeta non so se mi sono spiegata qui se ci sono degli astrologi sicuramente si tolgono di più la notte la nota ma visto che ad un livello più alto del livello degli angeli dei demoni delle luci e delle ombre che ci attraversano e che noi generiamo benissimo attraverso la nostra vita e il nostro respiro c'è un livello più alto quello dell'intelligenza di gestione quello degli arcangeli quello in cui lo spirito organizza il nostro destino chiamatelo come volete le nostre mission in accordo con le mission degli altri perché deve essere proprio bravo con il che fai i destini perché fa sì che nello svolge sede di uno si compie anche quello dell'altro e c'è una sincroniscia una perfezione che secondo me è molto comomente ma questo è un modo di vedere e allora devo andare su un alto livello che è quello degli arcangeli prendiamo un livello neutro e allora a livello degli arcangeli io ho un albero che ora provo questo è il livello di Bria è l'albero perfetto dei Sumeri quello che ha 36 sentieri la perfezione 36 sentieri sono tutti i sentieri possibili all'interno dell'albero della vita è stata un'intuizione anche del Dhamma Divina che è un maestro un grande maestro di Kabbalah sapete come lo si ottiene ve lo faccio vedere se un conflitto mi aiuta semplicemente male tutto c'è il regno quando siamo a livello degli arcangeli il regno può essere determinato qualunque regno loro sono elementi organizzatici dei sistemi quindi quando siamo su questo livello non lo apro più DAT il terzo occhio non lo apro più perché non mi serve perché quando sono a questo livello io non vado nel livello precedente quello precedente c'è la dignità pura c'è la ho l'effigurazione pura in nome di Dio non ho più l'organizzazione di un ente ho l'esistere quindi io qui non ho lato più la porta stretta il cambio di dimensione non c'è più appunto la porta che ti porta oltre e allora non mi serve questo spazio e tutto va su allora questo che è titolo viene portato qua perché a un livello di arcangeli la bellezza è l'incrocio tra non so se riesco a passarmi l'emozione che dà a un livello così alto come ti verrete da parlare piano questo lo porto qui questo lo porto qui e mai tutto il regno l'esilio anche chiamata c'è varie tavole su come cade questo lo porto sopra allora non ho nessun sentivo che cade perché nel bene e nel male a livello di briar di questa frequenza così alta dove si organizza l'unica arma a seconda dell'arma collettivo cioè dove l'uno si manifesterà ma non succede niente non vogliamo i cori cioè gli insiemi di angeli non l'angelo qui non c'è caduta e non c'è evoluzione c'è l'organizzazione di una realtà meravigliosa perfetta e quindi vedete che se noi colleghiamo il tutto con tutto cioè tutti i sentieri possibili ne abbiamo 36 questo che gli hanno di sentieri non mi mettono così ma ne parliamo una parola ma sempre dal numero interiore a quello subito superiore ne hai 22 se fai questo e ne hai 32 in questo modo 36 in questo modo ma questi 36 sentieri attraverso l'olume attraverso le dematrie che io leggo qui io so mi posso capire il perché poi è stato fatto questo perché questo ha generato questo è una via rizzoso si dà da rizzoso ma anche qui anche a questo livello io posso trovare dei sentieri fuori dai 36 sentieri e allora io so che quel sentiero che ha generato vedete qui questo triangolo terribile non c'è più non c'è più questo demone è questo poi questo qua a questo livello non c'è più il futuro e in cambio questi che sono fuori dall'albero non dipendono e la persona non ci tocca fare niente perché fanno parte dell'ordine sopra le cose cioè fanno parte come dire quel loro difetto chiamiamolo così quella loro caduta fa parte dell'epodicolo globale è quando si dice qualcuno ne può farlo e fa parte del programma della sua anima ed è per quello che potrà fare poco contro questi sentieri potrà fare tutto in questo livello a questo livello dopo questo se voglio andare a nitroso io non trovo più un albero io vado nella dimensione dei suoni si diceva i nomi di Dio i suoni dopo sono nel parta 2 sono da una parte per questo Edward Backe è un cavallista ha fatto i 12 rimedi i 12 guaritori nelle 12 lettere degli elementi poi è arrivato il 38 perché Dio guarisce dice perché in aprile dicono il 38 vuol dire Dio guarisce è davanti la guarigione viene da Dio non dagli uomini dagli uomini c'abbiamo pure e poi quando è morto non ce l'ha fatta ma il suo non è più tempo ed è finito ma i suoi allievi poi immigrati in territorio hanno fatto i 72 più i territoriani che sono poi lasciati ancora il rimedio qui dove non si ne media più dove è giusto così perché noi non capiamo perché è giusto ma nell'ordine universale c'è anche qualcuno che ha un capito carattere perché serve anche lui alcuno viene di tutti poi a volte le persone perdono il filo del numero e se state a vedere adesso nei libri visto che non hanno capito perché erano stati fatti i 72 fiori adesso sono diventati 100 e non si capisce non c'è più un nesso spirituale perché è importante vedere invece quando è importante vedere siamo tutti dall'ultimati siamo siamo esuli nel nostro stesso regno volevo sempre che il mio meno termine far adesso già faccio no volevo farvi vedere una cosa che non riesco e siete anche stanchi però vi dico che questo altro della vita se noi ne confrontiamo 100 1000 sono uno diverso dall'altro completamente diverso dall'altro e se questo è un tema natale e questo lo può fare anche un astrologo ci sono i dati che non fanno queste sono le geometrie che stanno dentro all'albero di quell'albero cioè solo queste sono le geometrie ma ognuna di questa ha dei valori che non sono piccoli ogni albero quindi nasconde no consegna non nasconde tiene perché nella vita c'è sapienza ma può darsi che sia il simbolo che agisce durante tutta la nostra vita durante tutte le nostre vite perché è la mia iniziazione è forte è l'iniziazione fortissima è la nostra iniziazione alla vita chissà da quanto da quando che vita dopo vita non a caso per questo ne per tipo questo no ecco no momento non si trovano tutte le vite precedenti almeno ognuno sono capace di trovarle diciamo così però si trovano segni di vite precedenti una due mette anche tre dati che sono ancora influenti su questa a tal punto che quando noi appunto ci esponiamo al nostro lago della vita pian piano quei noti quegli atteggiamenti che sempre avevamo e non sapravamo per te facciamo così quella situazione come quando un trauma ne viene ricordata l'origine pian piano si scioglie così anche il karma cioè il risultato delle nostre stesse azioni pian piano si scioglie e noi smettiamo il bisogno e gli atteggiamenti che poi ci fanno soffrire o se fanno soffrire gli altri poi dei mando faranno soffrire a noi perché riusciamo a cominciare a capire da dove è iniziato perché facciamo così spero che queste parole ti siano soprattutto che siano di stimolo a ragionare noi stessi come un mistero davvero rivelato irrivelato perché abbiamo una ricchezza una perfezione dentro che delle volte i nostri sensi non ci aiutano a cogliere lavorando sugli alberi io sono molto grata a tutte le persone che si sono diciamo mi hanno chiesto di lavorare in questo modo ma tutte le volte entro con quella commozione di quando vai a vedere nell'intimo la creatura come dire quasi cerco sempre di non essere indelicata perché entro in ambiti così privati e così profondi che mi accorgo che è molto impegnativo anche ascoltare il proprio altro la lettura del proprio altro sicuramente tante altre cose magari anche altri potranno trovare seguendo questa via che tante diciamo tanti risultati li ha già dati da un punto di vista certo delle persone persone che hanno ascoltato che hanno confermato che hanno detto che poi hanno allora visto che l'indelicatezza quando si va nel profondo purtroppo sempre in Italia allora per consolarci di tutto questo mi sono portata solo una cosa da leggere insieme da leggere da leggere per voi che avete avuto la costanza e la pazienza di ascoltarmi spero che vi piaccia perché ho voluto fare un gesto di umilità personale e mi sono portata una cosa elettorica che poche me ne piacciono così tanto questa mi piace molto e ve la leggo nelle tre lingue ve la leggo nella lingua italiana tradotta ve la leggo in ebraico quasi letterato come viene molto importante oggi e ve la leggo con i suoni che nasconde Dio compassionevole misericordioso lento al Dio abbondante nell'amore e nella verità forma l'amore alle migliaia sopporta la colpa e la malvagità in peccato e purifica di un'amore e la roma numeric a fa'imbera risette per i met non c'è che sei le ala finno se avon vatti sa' vara t'ave na vuole a la lare ca vabe vae nu vado a lare ca te yo ve vae ve ca sa' da va ve ca lu ta e ca sa' da la alla pe e yom men nu shi a yom ga nu ga des shi o va ke ta e va nu e sa' ga ma e ha in la k Grazie. Grazie.